Sono la voce di Roberto Chevalier. Sono la voce italiana di un famoso attore americano. Negli anni Ottanta ho lavorato in un film d'azione cult su una scuola per i migliori piloti da aerei e da combattimento. Lì ho viaggiato alla velocità del suono e ho infranto più volte la sua barriera. La mia voce però, non io, la mia voce è arrivata fin lassù. Ma finora io sono arrivato solo agli studi di registrazione. Quando mi hanno chiesto di doppiare il seguito del film, ho pensato come posso tradurre un'esperienza fatta con la mia voce senza averla vissuta. è riservata solo a pochi fortunati? Non più. Dopo 35 anni, finalmente, la mia voce e io abbiamo raggiunto la stessa velocità. e so esattamente come doppiare la voce del mio attore preferito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.